Si tiene il 20 e 21 novembre all'ingotto fiere Wearable Tech Torino, la prima fiera in Europa dedicata alle tecnologie indossabili. Organizzata da un'associazione di studenti del Politecnico, Junior Enterprise Torino Politecnico, con la consulta Giovani, l'iniziativa presentata a Palazzo Lascaris ospita oltre 50 aziende e start-up, con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico le potenzialità della tecnologia wearable. L'iniziativa delle tecnologie indossabili è considerata l'iniziativa più importante della consulta regionale dei giovani, un po' perché tocca chiaramente il mondo giovanile, ma soprattutto tocca il mondo del lavoro, il mondo della ricerca, è una di quelle mode come le tecnologie indossabili che sono frutto di esperienza, di ricerca e di lavoro e soprattutto quando viene questo tipo di esperienza dal mondo giovanile la riteniamo assolutamente importante e fondamentale e quindi abbiamo deciso di sostenerla in modo assolutamente deciso e invitiamo tutti all'evento del 20 e del 21 novembre all'ingotto. Wearable Tech Torino è un primo progetto inedito sia per l'Italia che per l'Europa, che porterà start-up e aziende, panelist, talk e workshop su tutto il mondo della tecnologia indossabile a 360 gradi e dell'internet delle cose. In particolare sarà un evento gratuito mirato al pubblico consumer in modo da far conoscere al pubblico questa tecnologia che il mercato ha già compreso ma che il pubblico ancora stenta a comprendere e che probabilmente sarà tecnologia top, comunque la più venduta nelle festività natalizie che si avvicinano. Quindi la tecnologia indossabile è pervasiva secondo noi e vogliamo farla conoscere al pubblico.